Musica Si fa incontro anche Cottafava Dramè lo slalom entra in area Dramè carica il destro Il raddoppio Del Lecce Che invenzione da parte di Usman Dramè Davvero tutto merito suo Questo gol e siamo in situazione Di parità a questo punto Sui 180 minuti Allora primo commento a Katia e poi Le reazioni da parte delle panchine Come rivediamo dalle immagini Dramè è stato Fantastico nella conclusione A rete nel primo raddoppio Un po' troppo morbido l'intervento Dei difensori della Latina Che riescono a farsi saltare Con semplicità poi però dal limite Dell'aria con l'interno destro Va a togliere la ragnatela Dalla porta E quindi realizza una rete Strepitosa Grazie a tutti